Buonasera a Di Maio, buonasera onorevole Di Maio. Le dico subito una cosa personale, io ho visto questa campagna elettorale, soprattutto dopo la vittoria del Movimento 5 Stelle con il 32-33%, 11 milioni di voti, ho visto il suo ruolo, un ruolo molto istituzionale, molto attento alle prerogative della Costituzione, rispettoso di tutti quanti, avete addirittura fatto un'alleanza con il Movimento di Salvini che in campagna elettorale non è esattamente vostro alleato. Adesso c'è stato un cambio di passo, poi parleremo del governo, ma il suo tono è diventato da manifestazione addirittura il 2 giugno, impeachment a Mattarella. Non le sembra di essersi fatto trasportare un po' dalla rabbia comprensibile della mancata nomina ministro? No, mi fa piacere che almeno comprenda la rabbia, che non è di certo per la nomina ministro, ma per il fatto che fino a ieri sera c'era un governo pronto con la lista dei ministri, con Giuseppe Conte pronto a fare il Presidente del Consiglio, una maggioranza in Parlamento che aveva 10 voti in più della maggioranza assoluta al Senato, che di questi tempi è oro. Ci è stato detto che non si poteva fare per una persona, Paolo Savona, ministro dell'economia. Il vero tema di tutta questa storia è Io sono rispettoso della Costituzione e delle istituzioni, ma quando le istituzioni prevaricano i loro doveri costituzionali, allora per me non va più bene. Buonevole Di Maio, utilizzo un articolo della Costituzione per cui i ministri sono nominati, l'ho detto anche a Salvini poco fa, i ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica. E aggiungo, non è la prima volta che un Presidente della Repubblica si arroga questo diritto. Beh, le ultime volte in cui il Presidente della Repubblica ha detto no grazie ad alcuni ministri, stavamo parlando di Previti, che era l'avvocato di Berlusconi, stavamo parlando di gente che in passato era sotto indagini o di magistrati in servizio. Beh, Gratteri, insomma... Era un magistrato in servizio che si stava portando dalla magistratura a ministro della giustizia senza soluzione di continuità. E in questo caso è un paladino della critica all'euro. Ma la questione è un'altra. Come si fa a dire che un ministro non può fare il ministro perché nel proprio libro aveva espresso delle opinioni critiche nei confronti dell'euro? Il reato d'opinione in Italia non esiste. Le posso dire un'altra cosa. Lei l'ha letto il libro di Cottarelli, attuale Presidente del Consiglio incaricato sull'euro? Perché lui parla proprio del fatto che non ci è convenuto entrare nell'euro e che se in questo momento si uscisse dall'euro potremmo ripagare il debito pubblico con altre disponibilità finanziarie fuori da alcuni vincoli. Scusate, delle due l'una. Allora, se il tema dell'euro era il problema, vale anche per Cottarelli. Se il tema dell'euro non era il problema, allora andava bene Savona. Le dirò ancora di più. Qui si sta facendo pensare che questo governo, il governo che aveva una fiducia in Parlamento, il governo della Lega e del Movimento 5 Stelle, è saltato perché si voleva uscire dall'euro. Allora, le rivelo una cosa. Quando io e Salvini abbiamo conosciuto il professor Paolo Savona, l'abbiamo conosciuto insieme, gli davamo del lei tutti e due. E gli abbiamo detto, professore, vorremmo che lei facesse il ministro dell'economia del nostro governo, perché ha tutti il know-how e la competenza per andare in Europa e ricontrattare alcuni trattati che ci stanno danneggiando. Lui mi ha detto, lo faccio, patto e condizione, che non si esce dall'euro. E noi gli abbiamo detto, neanche noi vogliamo uscire dall'euro. Allora, siamo d'accordo tutti e tre. E lei gliel'ha detto a Mattarella questa posizione? Anche ieri si è più avuto... Ma non solo, è stato detto più volte al Quirinale che se serviva si potevano fare delle interviste nei giornali stranieri, nei giornali italiani. Ma non l'avete fatta, perché quella cosa che ha fatto Mattarella... Si potevano fare degli incontri tra Conte e tutti i capi di Stato in cui Conte, premier incaricato, era garante di tutto il governo e diceva che non si usciva dall'euro. Diciamoci la verità. Qui, la verità è che questo governo non doveva partire. Tanto è vero che Cottarelli ce l'avevano nel cassetto. è uscito un'ora dopo, incaricato Cottarelli. È arrivato lì e si rende conto che ieri sera non si è fatto partire un governo che aveva la maggioranza in Parlamento. Stamattina si sta facendo partire un governo, si è fatto partire un governo che domani o stasera giurerà con i ministri, che già si sa che non ha i due terzi del Parlamento. Questo è un atto pericolosissimo per me, perché si sta mettendo per gli affari correnti un governo che si manda alle Camere pur sapendo che non ha la maggioranza. Almeno Gentiloni in un'era geologica fa, in un'era politica e quindi geologica fa, l'ha avuta una maggioranza, l'ha avuta una fiducia. Vediamo un clip di Cottarelli, però su questo le voglio chiedere un'altra cosa. Vediamo un clip di Cottarelli. Mi presenterò quindi al Parlamento con un programma che, in caso di fiducia, includa l'approvazione della legge di bilancio per il 2019. Dopodiché il Parlamento verrebbe sciolto con elezioni a inizio 2019. In assenza di fiducia, il governo si dimetterebbe immediatamente e il suo principale compito sarebbe la gestione dell'ordinaria amministrazione e di accompagnare il Paese a elezioni dopo il mese di agosto. Vi posso assicurare nel modo più assoluto che un governo da me guidato assicurerebbe una gestione prudente dei nostri conti pubblici. Allora, il punto fondamentale, che io le chiedo e poi la chiudiamo, perché poi ci sono tante altre cose di cui dobbiamo parlare, ma posto che lei può avere tutte le ragioni di questo mondo e molte persone sulla rete, ne abbiamo parlato anche prima con Greta, sono molto, diciamo, arrabbiate, ma lei è un leader politico importante della prima forza politica italiana con 11 milioni di voti. Si andrà alle elezioni perché si andrà alle elezioni? Spostare così in alto la polemica sul colle è una cosa, secondo lei, perché, sa, il 2 giugno... Oh, Toninelli è un carabiniere, lo sa che Toninelli è un carabiniere. Sì, ma il 2 giugno noi facciamo una manifestazione pacifica in cui diciamo alla nostra gente venite in piazza e raccontiamoci come stanno le cose. Io l'unica cosa che posso fare nei prossimi giorni è raccontare la verità di quello che è accaduto. Però il ragionamento è logico, Porro, perché il tema è mettiamo pure che prendiamo l'80% alle elezioni politiche, quindi una maggioranza assurda, quindi sto sparando delle assurdità. Ci ripresentiamo al colle e ripresentiamo una squadra di governo. E Salvini ha detto che ripresenta Savona. Ok, e ci ridicono di no. Come faccio a dire ai cittadini andiamo a votare che cambierà tutto? Prima devo risolvere il problema che per me è un'assurdità, che il colle dica che siccome Savona aveva scritto un libro vent'anni fa in cui criticava l'euro, dieci anni fa o cinque anni fa criticava l'euro, non andava bene. Il libro di Cottarelli critica l'euro allo stesso modo, però Cottarelli va bene. Se noi non parlamentarizziamo questa crisi istituzionale con l'articolo 90 e quindi con l'articolo 90. L'articolo 90 è l'unico... Io ho diretto la Camera per cinque anni. Lo so bene. Il Presidente della Repubblica neanche si può citare in aula, se non nel caso in cui si utilizza l'articolo 90 per parlamentarizzare la vicenda. Poi io penso anche un'altra cosa. Qui oltre a parlamentarizzare la questione, pacificamente bisogna raccontare al popolo italiano che cosa è accaduto in questi giorni, perché ci sono due grandi bugie. Una che si è detto che si è rifiutato un governo che voleva uscire dall'euro per tutelare i risparmi degli italiani. Noi non volevamo uscire dall'euro e nel contratto non c'era e Savona l'aveva posto come condizione per essere ministro. 250 miliardi di debito pubblico da ridiscutere. Lo conosciamo il debito pubblico e tutti i problemi del debito pubblico. Però spiegatemi una cosa. Come si fa a dire che si vogliono tutelare i risparmi degli italiani impedendo ad una persona di andare in Europa a ricontrattare gli interessi degli italiani. Perché quello che noi volevamo fare... Ma il debito è un obbligo che abbiamo, onorevole Di Maio. Certo che è un obbligo, ma possiamo dirci che per ridurlo dobbiamo fare gli investimenti e non continuare a tagliare dalla sanità. Noi questo volevamo fare in Europa con una persona come il professor Savona che era tecnicamente preparato e conosceva gli ambienti perché era stato già ministro. Poi l'assurdità è che è stato ministro sotto Ciampi e andava bene, con noi no. Volevamo andare lì e dire dateci i margini per fare gli investimenti e ridurre il debito. Mi guardi bene. Lei oggi era uomo che comandava un governo insieme a Salvini che avrebbe fatto il cambiamento, secondo quello che lei ci ha detto. Avete lavorato su un programma in cui ci sono cose che voi considerate rivoluzionarie. Tutto questo buttato nel cestino perché non avete voluto cambiare il ministro dell'economia. Io faccio un messaggio di giornalista, non le faccio un messiere di politico. Le sto chiedendo, ne è balsa la pena? Assolutamente. Io le ribalto questa domanda. Le pare che con il movimento avrebbe ottenuto il ministero della giustizia, infrastrutture, lavoro, il ministero dello sviluppo economico, ambiente, avevamo contrattato tanti ministeri. Per un capriccio facevamo saltare tutto. Qui il tema non era Savona. Salvini voleva, lei no. Il problema non era Savona. Il problema erano tutti quelli come Savona. Perché avendo proposto e facendo arrivare anche al Quirinale il nome di Bagnai, neanche andava bene. Ho capito, Dracula Lavi se per Mattarella. Chi è che andava bene? Chi non aveva. Andava bene soltanto chi, per sua stessa missione, non aveva gli strumenti e le competenze per andare a combattere in Europa maggiori margini di bilancio per l'Italia. Giorgetti? Lei si parla di Giorgetti. Quando è stato proposto Giancarlo Giorgetti? Giancarlo Giorgetti ha detto a me Salvini con molta umiltà se mettete me, io ai tavoli europei non ho né le conoscenze, né le competenze per riuscire ad ottenere i risultati. Perché poi lo qui si faceva sul serio. Noi avevamo messo nel contratto degli obiettivi ambiziosi, eliminazione della legge Fornero, la flat tax, il reddito di cittadinanza e prima, come cappello di questo contratto, c'era scritto per ottenere questi risultati dobbiamo ottenere maggiori spazi di bilancio in Unione Europea. Come dovevamo contrattare questi obiettivi? Con una persona come Savona, ma a ministro per le politiche dell'Unione Europea, avevamo individuato Moavero. Moavero è stato ministro del governo Monti, quindi una persona che avrebbe anche rassicurato. Avevamo detto al Quirinale, il garante di questo governo era il professor Conte. Sì, se il professor Conte il giorno in cui diventa presidente del Consiglio va da Macron, dalla Merkel a dire guardate questi sono i nostri indirizzi di politica economica, gli spread si abbassavano, invece stanno continuando a salire perché è l'incertezza che li fa salire, non Savona l'economia. Ed è questa la grande bugia che è stata utilizzata per impedire di far partire il nostro governo. Senta, adesso siete in campagna elettorale. Guardi, io le dico, non è neanche una questione più di campagna elettorale. Questa è una questione di raccontare agli italiani quello che è successo per definire una cosa. Il nostro voto, conta qualcosa oppure no? Perché tornare in campagna elettorale e dire andiamo a votare e poi ci ripresentiamo al Quirinale e ci ribocciano il governo, non è onesto. Ed è per questo che non abbiamo alzato lo scontro. Guardi, io sono stato un profondo estimatore del Presidente della Repubblica. E stamattina ho dichiarato pure che secondo me andava messo in stato d'accusa qualche suo consigliere più che il Presidente. Perché io ho capito come funziona questa roba qua. e si sono mossi tanti poteri in questi giorni per impedirci di partire. Si è utilizzata la scusa del Professor Savona ma affinché i grumi di potere di questo Paese continueranno ad influenzare l'atto finale di nomina di un governo io devo risolvere quel problema. Per questo l'articolo 90 l'ha messo in stato d'accusa. Ma quale potere secondo lei? Lei quando indica questi poteri cosa intende? No, ragioniamo al contrario. Si legga il contratto. L'ho letto bene. No, no, mi scusi, lo dico non per dire che non l'ha letto. Cioè, leggetevi il contratto. Lì dentro c'era, la cosa più scema, come si dice, era taglio delle pensioni d'oro e dei vitalizi fino a ripubblicizzazione dell'acqua. Togliere le nomine alla politica della sanità e metterci manager degli ospedali con merito. La riforma della RAI. E lei sa qualcosa di quello che succede in RAI. Rimettere in cima alla RAI, nei vertici della RAI, gente con merito. Dovevamo nominare tra due mesi o un mese e mezzo i vertici dei servizi segreti, i vertici di Finmeccanica, i vertici delle più grandi partecipate di Stato. E questo lo farà Cottarelli, secondo lei, ora? Ma io mi auguro di no. Anzi, diciamo una cosa qui pubblicamente. Un governo in carica per gli affari correnti non si deve permettere di nominare i vertici della RAI, dei servizi e delle partecipate di Stato. Tutto in prorogazio, lei dice. Per quanto mi riguarda, o si inventa una formula per farli proporre al Parlamento, magari con risoluzioni e mozioni che impegnano il governo, oppure è meglio che non li tocchi, perché altrimenti è dimostrato che non è un governo in carica per gli affari correnti, perché quelli non sono affari correnti, quelli sono atti politici quando individui il capo del DIS, cioè dei servizi segreti esteri e interni. Non è un atto per gli affari correnti. Senta, l'altra cosa che mi affascina è la seguente in questa storia. Nei retroscena giornalistici dicono che lei, il suo profilo istituzionale, si è mantenuto, a parte questa scivolata dell'impeccimento, si è mantenuto molto più. Cioè che il vero timore del Quirinale fosse la Lega. E anche un po' Salvini questa cosa la... Cioè più di voi, più del Movimento 5 Stelle fosse la Lega e che voi siete stati più trattativisti. È un retroscena giornalistico sbagliato questo? Guardi, questo lo può chiedere anche a Salvini. Io ho una sola parola. Se dico andiamo insieme, si va insieme fino alla fine. e in questo momento, fermo restando che con Salvini correremo l'uno contro l'altro, ci manderemo a quel paese. Manderemo l'uno contro l'altro? Anche alle amministrative. Siamo separati, ognuno corre per sé. A Vicenza, a Siena, c'è la desistenza. No, non c'è la desistenza. Semplicemente non si sono autorizzate alcune liste per una serie di ragioni. Però le voglio dire, quando io do la parola ad una persona, quella è. E in quel caso, quando abbiamo conosciuto Savona e abbiamo detto, per noi vanno bene i profili come Savona perché abbiamo una grande sfida da compiere in Unione Europea, si va avanti fino alla fine. Qualcuno sta dicendo che Salvini mi ha fregato perché ha fatto saltare il tavolo. Qualcun altro sta dicendo a Salvini vedi che Di Maio ti stava fregando perché col colle stava trovando una soluzione per fregarti, per riprendersi lui l'incarico. Io credo che questa vicenda dimostri che siamo andati avanti fino alla fine. Io ero oggi Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, ma non me ne fregato nulla se non ci permettevano di utilizzare degli strumenti come le competenze di un grande professionista come Savona per raggiungere gli spazi di bilancio e ottenere reddito di cittadinanza, riforma della fornera e quindi abolizione, il salario minimo orario, gli investimenti sulle imprese. Stavamo per fare la legge, io avevo già pronta la legge che impediva alle aziende di andare all'estero se avevano preso fondi pubblici e quindi la smettevano di delocalizzare lasciando in mezzo a una strada le persone. Avevamo già pronta questa roba qui. La lista dei ministri era stata portata al Presidente. Si sono assunti la responsabilità di non farcelo fare. Però adesso l'opinione pubblica è un po' arrabbiata. Non so lei che feedback sta avendo. L'opinione pubblica è sconcertata sicuramente di quello che sta avvenendo perché è una cosa inedita per la Repubblica italiana, ma non è che il mio metro valga qualcosa. Quello che varrà saranno le elezioni. E su questo le voglio chiedere una cosa molto semplice perché sulla sua poltrona, poco e poco minuti fa, c'era Matteo Salvini. Ora si è seduto lei. Io mi ricordo sempre lei e sempre Salvini in quella poltrona durante la campagna elettorale che avevate posizioni diverse, anche dure l'uno contro l'altro. Come fa lei a fare una campagna elettorale in antitesi a Salvini fra due mesi e tre mesi? Questa è la domanda che ora mi faccio politicamente. Deve essere ben chiara una cosa. Noi ci abbiamo messo 80 giorni per fare questo governo perché le posizioni erano molto diverse. quando noi abbiamo deciso di scrivere questo contratto di governo non è stato semplice. Intorno al tavolo si sono seduti i miei capigruppo, i suoi capigruppo, i nostri parlamentari. Su tante cose non eravamo d'accordo. Alcune cose nel contratto di governo neanche ci sono entrate perché abbiamo posizioni diverse su tanti temi. Quello che però avevamo in comune l'abbiamo messo lì dentro. C'erano cinque anni di lavoro almeno da fare per tutti i punti che abbiamo individuato. Ora io dico questo. Fermo restando e restiamo le forze alternative. Quindi ci saranno delle visioni diverse che racconteremo. Finché non si va al voto la maggioranza in Parlamento ce l'abbiamo sempre noi e la Lega. E quindi quel contratto di governo per me, e ce lo siamo detti con Salvini, è ancora valido. E quindi lo realizzeremo nelle commissioni finché non si torna al voto. Ci vogliono giorni, mesi per fare riforma elettorale che mi ha detto Salvini e forse lei mi conferma, fisco e sicurezza. Cominciamo dalle cose più semplici. Cominciamo ad abolire quello che vogliamo abolire. Ad esempio la legge Fornero. Cominciamo a fare una legge che per esempio permetta seriamente alle forze dell'ordine di combattere i corrotti. Noi avevamo messo una cosa nel contratto. Si chiamava daspo ai corrotti. Cioè se tu vieni pescato, sei un politico o un funzionario pubblico, vieni preso con le mani nella marmellata, nella pubblica amministrazione ci metti più piedi. Questo è a costo zero e permette alle forze dell'ordine di liberarsi di tanta gente che mangia sulle tasse degli italiani. Questa roba qua si può cominciare a realizzare? Va bene. Beh, cominciamo a farlo. Intanto che però si torna al voto perché io di governi tecnici, se lo ricordo è il 2013, quella legislatura doveva, l'ultima, doveva durare un paio d'anni, un anno, poi è durata cinque anni. È pericolosissimo perché adesso si mette questo governo lì a bagnomaria. Poi magari i parlamentari cominciano a muoversi, qualcuno comincia a comprare, qualcun altro. Quindi andiamo al voto il prima possibile perché io di Volta Gabbana non ne voglio vedere. C'è un piccolo problema, che lei non può fare il terzo mandato. Io penso... Lei e i suoi colleghi, quanti sono i parlamentari del Movimento 5 Stelle adesso? Noi siamo... Eravamo 338 all'intorno e 330. Sono 330 persone di cui una parte è già fatto il secondo mandato. Un terzo è al secondo mandato, due terzi è al primo mandato. Ah vabbè, il terzo che è al secondo mandato, non si può più ricandidare. Quanto mi riguarda, se parte un governo legittimato dal Parlamento, scatta il secondo mandato. Se non parte questo governo legittimato dal Parlamento perché non prende la fiducia, e allora si ripresentano le liste uguali e si ritorna a votare. Cioè ritornate tutti... Ma non è una smentita? No, perché come ho sempre detto, se parte il nuovo governo, allora anche se dura un anno, sei mesi, quello è il secondo mandato. Quindi lei esplica qualsiasi fiducia anche tecnica per poterlo fare? Per carità, le fiducia tecniche non esistono. È come la biglia sul piano inclinato. Una volta che l'hai messa lì, comincia a scorrere e a fare danni, tipo riforma delle pensioni, riforma del Jobs Act, riforma della sanità. È pericolosissimo. E senza un governo che con la fiducia, voi pensate di poter cambiare la Fornero? Glielo chiedo. Il Parlamento... Lei ha fatto vicepresidente della Camera. Il Parlamento è sovrano, fa le leggi. E il governo dovrebbe eseguire. Certo, io non sono un fan di questo governo, anche perché Cottarelli o chi altro che verrà messo qui dentro, non hanno preso un voto. Ma lei lo sa che rabbia vedere il Movimento ha preso 11 milioni di voti. Io ero il candidato premier del Movimento 5 Stelle. Salvini ne aveva presi 5 o 6. Ma anche l'EU, che ne ha presi un milione scarsi, ha preso più voti di Cottarelli che non ne ha preso uno. Quello va a fare il Presidente del Consiglio senza neanche i voti in Parlamento. Noi che avevamo fatto un governo con il 60% di consenso del popolo italiano, ce l'hanno bocciato e ce l'hanno mandato a casa. Tra l'altro non è che avevamo messo tra i ministri gente che non rispecchiasse il nostro programma. Cioè chi avevamo messo rispecchiava il nostro programma e doveva tenersi al nostro contratto di governo. Quindi era tutto collegato per riuscire a fare le cose buone. Però quando metti taglio alle pensioni d'oro anche di qualche funzionario alto del Paese... Ma no, ma si credo che il governo non si fa perché tagliate una pensione a un altro funzionario. Questa era la cosa più leggera nel contratto. Senta, certo, assolutamente. Non risfondo una porta aperta. Però le faccio un'altra domanda su questo. Quando si arriverà alle elezioni? Quindi a ottobre, direi, a questo punto, no? Che immagina? A ottobre, fine settembre, ottobre? Subito dopo l'estate. Per non far andare a votare i cittadini il 15 agosto, subito dopo. Io mi aspetto, poi decide il Presidente. No, ha detto che potete decidere. Secondo me il Presidente vuole che invece decidano le forze parlamentari. Comunque, io spero il prima possibile. Siamo in questo momento a fine maggio. Io spero ottobre o settembre anche. Settembre, forse è meglio. Forse è meglio settembre, secondo lei. Se si dovesse votare a settembre e poi dopo voi vi ripresentate, se si dovesse avere una maggioranza, verosimilmente con la stessa alleanza cosiddetta giallo-verde al Quirinale, con lo stesso inquilino del Quirinale. Questo decideranno gli italiani, guardi. Ma se si dovesse arrivare i sondaggi, poi li vedremo e faremo mesi di sondaggi. Io credo che sarà una campagna elettorale totalmente diversa. Perché? Perché? Perché è chiaro che sarà una sorta di referendum. Già il sistema si sta polarizzando. Non il sistema. Il panorama elettorale si sta polarizzando. Sono rimasti il Movimento 5 Stelle e la Lega nell'immaginario collettivo. Se a maggior ragione noi due siamo le parti lese di questa legislatura, credo che i cittadini italiani dovranno scegliere se dare la fiducia a delle forze che si sono battute contro questo sistema e quelli che invece in questo momento, l'assurdità, il PD vota la fiducia al governo Cottarelli. Cottarelli era il commissario, la spende in review, che il PD cacciò. Cacciò via. Lo fanno per senso di responsabilità, perché un governo ci vuole. Ma che senso di responsabilità? Per paura delle elezioni probabilmente. Ma dato ci sono le elezioni, non c'è un dubbio. Eh, questo diteglielo. Ma no, diteglielo, è sicuro che ci sono le elezioni? Io scusero veramente. Non c'è una possibilità che... Io guardi, ormai non... Con la Lega lei ha parlato, siete sicuri? Con Salvini che non c'è nessuna possibilità? No, ma qui tra quello che avevamo deciso noi e la Lega era anche un governo e non ce l'hanno fatto fare. Qui i partiti che adesso stanno a percentuali da prefisso telefonico non vorranno andare a votare e faranno di tutto per non andarci. Senta, l'altra cosa che voglio capire è se il Movimento 5 Stelle ritornerà in questa campagna elettorale dopo aver fatto un contratto di governo, aver fatto un accordo di governo con la Lega, tornerà con dei toni, con delle proposte un po' diverse. Cioè siete... La parola giusta non è maturata, maturati perché è una parola insopportabile, secondo me, per chi fa politica. Siete cambiati? Io credo che... Guardi, le dico sulla mia pelle. Ci siamo resi conto in questi 85 giorni quasi di gestazione di un governo mai nato che la vera grande battaglia sta ai tavoli europei e me ne sono reso conto sempre di più perché è lì che ci hanno fermato. Quando stavamo andando a ricontrattare il bilancio europeo dei prossimi sette anni e noi non volevamo né far saltare l'euro né far saltare l'Unione Europea, ma si sta decidendo che fine devono fare i 20 miliardi che noi diamo ogni anno all'Unione Europea che danno gli altri paesi e che poi si mettono in un bilancio. Già ci stanno tagliando fondi sull'agricoltura, già ci stanno tagliando fondi sulla coesione territoriale e sociale che significano i fondi per il Sud e noi stavamo andando lì con gente con gli attributi per contrattare a favore degli italiani. Le faccio vedere questo titolo di Matrix Prime Attacco all'Italia spread a 600 che è una cosa che nessuno di noi si augura. Secondo lei i mercati in questa fase cosa faranno a questo punto? Ma guardi, una volta scongiurata la possibilità che il Movimento 5 Stelle e la Lega vadano al governo, probabilmente lo spread scenderà e dimostrerà tutta l'ipocrisia di questo sistema. Io, lei lo sa che cosa penso di Berlusconi. Però una cosa è certa, l'ultimo governo eletto dal popolo in Italia è stato quello Berlusconi. Nel 2011 fu fatto saltare a favore di Monti con lo spread. E lei pensa che sia per Berlusconi sia per lei cioè sia stato lo stesso meccanismo. Allora, guardi, le motivazioni. La motivazione per cui non ci hanno fatto partire il governo era il problema che c'era una persona, l'economia che era simbolo e quindi preoccupazione per le agenzie di rating, per le banche europee e per i tedeschi. Ora, decidiamo. Perché in questo spread c'è questo. Lei me lo dica, è lo stesso complotto usato nei confronti di Berlusconi citando Brunetta. Ma non è un complotto, è chiaro qual è il punto. Il punto sono le posizioni di rendita in questo paese che hanno tolto soldi agli italiani che pagavano le tasse hanno aumentato le disparità sociali e adesso c'è qualcuno che quelle disparità le vuole mantenere per mantenere le ricchezze. Ora, quel qualcuno non è qualcuno che sta dietro l'ombra sono i soliti sistemi di finanza. Io voglio affermare un principio che il governo lo deve votare il popolo e il governo che stavamo creando era votato dal popolo. Grazie, grazie onorevole Di Maio. Grazie a voi. Buona serata. Grazie a voi. Comunificata.